Ok ragazzi, ok ragazzi, bentornati, bentornati con il nostro super torneo di infiniti nato, grande, grande serata con l'uomo mascherato, il campione che è tornato in finale dopo anni in un trobat, poi abbiamo l'Iron Man per la finale, e attenzione perché avremo il terzo incomodo, avremo Spider-Man che è arrabbiato, farà qualche guerra. Allora, subito con le presentazioni, che cos'hai? Charlie Play. Oh, e tu invece, cos'hai? Un nato... E tu cos'hai? Un basaltic box, un nato in due. Ok, ok, ok. Siamo pronti, siamo pronti per lo scontro? Vuoi dire qualcosa al tuo avversario? Sì. Cosa? Ucciderò. Tu vuoi dire qualcosa? Mi spacco i denti. Ah, proprio, andiamo sul classico, via, Batman, prima Batman, via col... Brain. Oh, spaccata, spaccata, addirittura. Oh, ma attenzione che abbiamo, abbiamo dei pugni che vanno in corso, abbiamo Spider-Man che è arrabbiato, abbiamo qualcuno che vuole, si sta urtando, c'è uno scontro, c'è una rissa, qualcuno direi pugni, qua. Ah, ecco lì, scappa la rissa. Vieni, Paolo, ti metti. Oh, ci scappa. Fermi, fermi, ci scappa la rissa. Attenzione, torna, 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 torna di qua, torna di qua, pazzi che non siete altri. Tornate qui, su, 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 torna di qua. Tornate qui. Eh, 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 c'è un pareggio, no, pareggio no, vince. Fai a me.